Ciao amiche e amici dalla vostra Gattaluna. Prima di tutto togliamoci il pensiero e chiariamo che il gloss che ho su è definito balsamo labbra brillante, è in color malva, il colore si chiama Neurly Mauve, è di Rare Beauty, guardate che carino il packaging che è così, con questa sezione tronca, credo che sia la mini size questa, è di Selena Gomez se non erro, vero il brand, e lo vendono in un set, vedete che potete tenerli così perché hanno entrambi la sezione che non è proprio completamente tonda, insieme a un altro balsamo labbra, in questo bullet opaco rosa pallidissimo, è molto carino anche questo, io l'ho usato stamattina e devo dire che come balsamo labbra si comporta piuttosto bene, guardate che carino, invece questo è quello che ho su che è più, sembra più un gloss tradizionale diciamo, però anche lui è per essere un gloss abbastanza scrivente, quindi questo è più, come dire, sì è lucidino ma più opaco, questo qua invece in forma di gloss tradizionale è più brillante, eccoli qui. e vengono venduti appunto in questo kit online sul sito di Sephora Italia, sono esauriti, ma ci sono invece negli store, negli store ci sono e mi sembra che sono scontati a 20 euro, sì non è super economico anche perché sono due mini size, non so dirvi grammi, ve lo dico subito, vediamo se c'è scritto, grammi, la scatoletta l'ho buttata via, questo qua sono 0,75 grammi il bullet, e l'altro è 3 milligrammi, quindi questo è un po' di più, decisamente di più, vabbè comunque il colore è molto bello, il malva, delicato direi abbastanza elegante, niente di chiassoso e super portabile, ma veniamo al sodo. Allora il tema di questo videuzzo è piccolo decluttering, vabbè l'ho messo in questo sacchetto di Sephora, ma non credo che sia, però per la maggior parte forse sono cose comprate anche da Sephora, o Sephora, o Sephora, comunque ho fatto un piccolo decluttering, una volta disfatti i bagagli del mare, fatele solo due lavatrici, parliamo di sta storia delle lavatrici. Care influencer, perché quando tornate dalle vacanze, polemicuccia che ho già fatto su Instagram, quando tornate dalle vacanze, ho fatto 7 lavatrici, 8 lavatrici, 9 lavatrici, 10 lavatrici, ma quanta roba vi portate in vacanze, quanti giorni state via, 8 mesi non lavate niente, no vi spiego perché io, quando si va in albergo, sinceramente, non so se siete dei nababbi all'ascolto, se ci sono dei nababbi all'ascolto, in albergo una volta che hai fatto 4 giorni, 5 giorni, vuoi fare 10 giorni, ok, e spegne una bella cifrona, vabbè, volendo ci sono le tintorie degli alberghi, ma la biancheria, le cose così, non mi dite che non lavate niente quando siete in albergo, moltissimi alberghi adesso hanno anche quella cosa che è fighissima, che è quel filo che si, è dentro al muro, però voi lo tirate, lo attaccate, c'è un gancio dall'altra parte, e vi danno anche le mini mollette per fare un po' di, non so, le calze, qualcosa la laverete, no? O vi portate dietro 22 mutande, ecco, ok, io sono una che si cambia, eh, ok. Mentre invece noi, e siamo state via un lungo periodo, ma in una casa, quindi io in quella casa, fino al giorno prima, sì, diciamo, fino a 36 ore prima, tanto il tempo era bello e tutto si asciugava in un attimo, io ho lavato e ho messo via le cose, casomai c'è un monticchiettino così, 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 per la signora che mi aiuta e mi stira, eh, ma poi per il resto io stiro praticamente nulla, perché uso sempre queste stoffe che non chiedono, non richiedono stiratura, e quindi ho fatto due lavatrici, una di chiari e una di scuri, basta, tanto le lenzuola non le, come dire, le ho messe nella lavatrice, ma le ho lasciate lì al mare, e anche la biancheria da bagno, così, e tutte, tutte cose che fornisce la proprietaria. Va bene, è finita questa polemicuccia, insomma, con due piccole lavatrici, ma niente di che, tanto lava la lavatrice. Dico a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che la mia mamma, come tutte le donne, magari anche qualche uomo, non lo so, perché allora era mansione femminile, lavava tutto a mano, anche le coperte, noi ci abbiamo delle lavatrici. Chiusa la parentesi polemica, ma veniamo alle cose pregnanti. Ho fatto un piccolo decluttering, stavo dicendo, tornata dal mare, decluttering delle cose di beauty, alcune cosine le ho buttate, ormai prodotti che si erano seccati, avevano assunto un colore, o avevano un odore, e le ho messi nei prodotti finiti, che poi vedrete, nei prodotti finiti, alcune cose invece, che erano per lo più robe intonse, direi, o forse messe su una volta. Ho fatto un piccolo decluttering a favore della figlia, perché secondo me sono tonalità e cose che lei, essendo neanche trentenne, può ben utilizzare. Vediamo che cosa. se lei dovesse vedere questo video, scusate, prendiamo una seggiollina, scusate un rumore, se dovesse vedere questo video, quindi per lei non sarà più una sorpresa, ma io non credo che lei abbia tempo di vedere i miei video, è una ragazza che lavora. Veniamo a noi. Prima cosa, questo specchiettino di Sephora, delizioso, devo dire, perché è così, è doppio, ma voglio farvi vedere questa cosa carinissima, che fate così, no, fate così, e si accendono le lucine, come gli specchi dei truccatori, degli attori nei camerini, eccetera. Questo mi era stato omaggiato anni e anni fa, non lo uso, ho pensato che per lei può essere una cosa carina, visto che ama così tanto il cinema. Poi, campioncino, no, non è un campioncino, questo si paga, ecco, si acquista, almeno si acquistava, Hello Happy, Soft Blur Foundation, questo di Benefit, nel colore 2, che adesso ovviamente a lei non va bene, che è un po' abbronzata, anche per me è troppo chiaro, e glielo do, perché questo ti dura, ti trucchi 4-5 volte, se stai via una settimana, te la fai tutta, è una mini size, io non so se lo fa più Benefit, l'Ello Happy, quello normale, che io chiamo normale, quello non glowy, era proprio carino, era così col tappo rose gold, temo che non lo facciano più, perché in giro vedo sempre quello glow, che io l'avevo preso, convinta dalla venditrice, disastro, ero una lampadina, e l'ho regalato. dunque dicevo, poi alla figlia darò, ecco ho fatto decluttering, due mascara, ovviamente nuovissimi, perché il mascara, amiche e amici, è come lo spazzolino da denti, non si dà neanche a una figlia, o un figlio, non si presta, e le do quei, perché ne ho tantissimi, ancora in tonsi, che c'è stato un periodo che vi compravo continuamente mascara, non so neanche io perché, e poi ne ho un sacco anche piccolini, quindi voglio finire quei, quei due o tre che ho aperto, e poi comunque ne ho degli altri, e allora le darò questo, perché ho un pack spettacolare, però mi dicono anche che sia buono, è di Nabla, ed è Vicious, non lo apro, così non si scatena il pau, e ha questa testina di pantera, con gli occhi che sembrano due rubini, non so se si vede, ma brillano anche al buio, anche alla luce, insomma, e penso che le possa piacere, anche come packaging, poi questi, perché è veramente, non perché non sia buono, questo è sigillato, eccetera, perché ha il pack viola, che è il suo colore preferito, è anche il mio, e questo è l'Insta Volume, di Astra, ultra volumizzante, mi dicono che è ottimo, a lei piacciono quelli volumizzanti, e allora ho detto, vabbè, lo do alla Elena, so che lei ama molto, quello lì di Benefit, il, non mi viene il nome, ma sì, quello strafamoso di Benefit, non il Magnet, quello di prima, ben comunque, va bene, poi, le do questi due, c'è un sacco di roba di Benefit, è vero, che peraltro, per me, sulle sopracciglia è top, poi le do questi due rossettini, che hanno un packaging, anni 70, stupendo, e con questa base, a fiorellino, sì, proprio tipo figli dei fiori, guardate che carino, veramente pecca, meraviglioso, sono quei rossettini, con cui è uscita Benefit, Benefit, sì, sono dei lip balm, most to design, most to design, ma che ne so, idratante, questo è Pink Rose, il 77, bellissimo, facciamolo su, accettino, li ho usati, la mano è pulitissima, adesso vi dico perché glieli regalo, e quest'altro invece, che è il Sechama, Fuchsia, scritto C-H-S-I-A, Fuchsia, come vedete, colori fotonici, sono molto scriventi, molto carini, ci piacciono, possono stare in piedi così, oddio, a me mi appagliano dei tampax, ma non importa, perché glieli regalo, glieli regalo perché lei è giovine, è fresca, e ovviamente non ha rughe, perché se avete rughette intorno alle labbra, come ahimè, è ovvio, è normale, è fisiologico, a meno che voi vi stiate a fare il filler in continuazione, e dicevano, sbavano, sbavano da matti, vanno nelle pieghette in una maniera veramente, perché sono molto morbidi, però per esempio quelli di Clio, i Kokolov, questi qua, boh, forse dipende dalla formulazione, i Kokolov non mi vanno mai nelle pieghette, questo qui non lo so perché l'ho appena messo, vi farò sapere, dipende credo dalla formulazione, forse sono troppo morbidi, non lo so, questo per ora non sbava per nulla, il colorino delicato, va bene, dicevamo, quindi li regalo a lei, che invece è giovane e fresca, poi che cosa le ho, allora, poi altre cosine che mi ha dato, la ragazza che mi ha fatto le sopracciglia ieri, me le ha date proprio, sono per lei, gliel'ha proprio regalati apposta, ce la possiamo fare, che sono, che stanno bene col suo colore di sopracciglia, la minima titina, nel colore, le ha dato, mi ha dato il 3,5 e il 3 per Elena, perché mi ha detto, sono i due colori tipici delle bionde, o delle castane con riflessi biondi, lei può fare l'inizio del sopracciglio, con il 3,5 che è più scuro, giusto? Si fa il colore più scuro qui, e quello più chiaro qui, o è tutto il contrario, boh non mi ricordo, con questo ci può giocare, vedere poi casomai, quale le piace di più, e poi il ghimibro piccolino, guardate il caruccio, nel colore 3, che è il neutral, il neutral light brown, che appunto è per le castane, abbastanza, non so, castane chiare, ed è proprio in tutto e per tutto, un mini, si si, guardate che carino, è un mini ghimibro, così lei può provarlo, vedere con quale prodottino si trova meglio, è ok, poi invece poi, un ghimibro invece in full size, questo ce l'avevo io sigillato, ma non lo uso perché mi sembra che, mi era stato omaggiato in una specie di kit, di benefit, ma un bel po' di tempo fa, più di un anno sicuro, e questo è il 2, che è proprio uno dei colori più chiari, e quindi a lei potrebbe andare bene, perché lei forse è più un 2 barra 3, forse 3 e mezzo è già troppo, ma insomma poi se la giocherà a lei, poi, poi mi ha dato la ragazza di Sephora, due campioncini di benefit, il correttore, che non è affatto male, e questo è il numero 4, light cool, quindi è un colore leggero, ma freddo, numero 4, perché la Elena ha un po' di tintarella, poi, non abbiamo mica finito, poi questo, questo era dentro, in un kit di Bobby Brown, anche lì, c'è stato un periodo, che mi dovevo comprare tutto di Bobby Brown, non si capisce perché, e quindi intanto andavo su, sono prodotti ottimi, su look fantastic, e mi ciappavo, mi ciappavo su, qualche prodottino, soprattutto i loro kit, con queste mini size, sono deliziosi, e hanno di solito un prezzo molto interessante, possono essere mini size, di solito sono delle travel, quantomeno, e questo è un matitone, in golden pink, praticamente avendo comprato tutti questi, non mi ero neanche accorta, che in un kit, e anche in un altro, c'era questa stessa, un matitone, ombretto in crema, non lo apro, per non far scattare il pau, quello, uno l'ho usato, lo sto usando, l'ho usato tanto al mare, questo glielo regalo, magari anche solo per illuminare un po', lo sguardo, poi, poi anche questo, adesso che è abbronzata, lei dovrebbe andar bene, no, sbagliato, perché questo è il forever 2N, quindi le va bene, normalmente, quando andrà via l'abbronzatura, poi le ho messo da parte, questo Sephora, struccante occhi bifasico, che lei usa, e questo è iniziato, perché l'ha usato lei al mare, quando è venuta a trovarci, glielo do, perché è piccino, se lo consuma tutto lei, tanto io ne ho uno grande, per quando lei viene eventualmente, qui si vuole struccare, e poi finiamo col botto, con i tuoi produttini fantastici, uno è il Donald Drink, alla salvia e fava tonka, che è questo profumino delizioso, che le avevo fatto provare al mare, e le era piaciuto tanto, io mi tengo quello al mandarino, e questo glielo regalo, perché lei era proprio piaciuto, questo è un profumo maschile, e a lei come a me, piacciono i profumi abbastanza maschili, poi chiudiamo con lo strabotto, questo nuovo di pacca, guardate che colore fotonico, non faccio lo swatch, perché non voglio far scattare il pao, e questo è, ora vi dico subito, no ma scrivete più piccolo, se ci riuscite, è del Dior Addict Lacquer Plump, ci sono quelli che, oddio mia figlia, già è naturalmente abbastanza plump di labbra, labbra molto carnose, però questo credo che sia un gloss, voglio sperare, è l'898, Midnight Star, no ma scrivete più piccolo, se si riuscite, ed è questo viola, leggermente forse con qualche riflessino, ma è, a parte il packaging spaziale, se lo vuole provare, sono sicura che non è di questo colore, in realtà darà dei riflessi, quindi può andarle bene, quindi io le metto tutto, in uno sacchettino di Sephora, e quando ci vediamo, gliene faccio omaggio, e così lei, tanto sono piccoline, perché io poi non voglio neanche intasarle la casa di cavolatine, come vedete, sono tutte, poi se butta via le scatole, occupano ancora meno posto, e poi lei piano piano se li utilizza, e quindi anche io ne ho tanti di correttori, e così lei si cucca questo sacchettino di cosine, quindi ho fatto un piccolo decluttering, ripeto, alcune cose le vedrete poi nei prodotti finiti, bene, amiche e amici, questo video finisce qui, sono passati quasi 20 minuti, come passa? Veloce il tempo, in buona compagnia, ma noi siamo qui in ottima compagnia, perché c'è l'assistente, Ciao gente! Non vi ha salutato all'inizio, perché me ne sono dimenticata, detto questo, eh lo so, ti ho trascurato, scusami, e quindi a questo punto, care amiche e cari amici, beccatevi un bacione dalla vostra gattaluna, e ricordatevi di fare ciò che vi fa stare bene, e la seconda cosa che dovete ricordare, no, ce ne sono diverse, adesso ve le dico tutte, la seconda cosa che vi ricordo, è che io sono su Instagram, sempre gattaluna, kimono blu, su Pinterest, che è un social che vi consiglio di frequentare, molto bello, molto chiccoso, sono kimono blu, gattaluna, comunque mi trovate, e basta, poi sono su YouTube, non ho altri social, ah sì, mi potete trovare anche su Facebook così, ma non li curo, quindi sono pagine vuote o semi vuote, poi, l'altra cosa che vi volevo dire, era che like, iscrizioni e condivisioni di questo video, saranno ovviamente molto gradite, ma non sono ovviamente obbligatorie, ma la cosa più importante, è che dovete essere belle, pronte, pronti e cariche, e carichi per la prossima.